Enrico Mentana presenta anche questa sera i dati caldissimi del sondaggio SWG per TG La7 I numeri snocciolati dal direttore del TG La7 parlano chiaro, Fratelli d'Italia resta in testa alle intenzioni di voto degli italiani Il partito di Giorgia Meloni perde un 0,3 ma mantiene il primato con il 29,5% Il PD sale al 22,7% e guadagna lo 0,3 in sette giorni Ma a precipitare è il Movimento 5 Stelle massacrato dalle divisioni interne tra Grillini e Contiani Il Movimento di Giuseppe perde per strada lo 0,4% e si abbassa a quota 11,4 Cresce Forza Italia Il partito di Antonio Tajani raggiunge l'8,7% e guadagna nello spazio di sette giorni lo 0,4% In crescita anche la Lega che dopo Pontida raggiunge l'8,5% con un più 0,1 Campanello d'allarme per sinistra italiana e Verdi che scendono al 6,9% lasciando per strada in una settimana lo 0,2% Azione di Carlo Calenda è sempre più in discesa dopo le ultime fuoriuscite e perde lo 0,2% arrivando a quota 2,8 Ma non finisce qui Italia viva di Matteo Renzi ora è al 2,2% con una flessione dello 0,3 Cresce dello 0,2 più Europa di Emma Bonino Ecco qui di seguito nel dettaglio i dati, chi sale e chi scende Grazie 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 Grazie